Ciao Ciao Come sei elegante Grazie Oh, non dovevi disturbarti Le vuoi o non le vuoi? Perché come? Vieni, vieni, vieni Ma come fatti? Dammi la borsa Porto la borsa in camera e le pasta in frigo Vieni, vieni, coraggio E questa è la camera da dentro La sacca E questo è il salotto Morto Venerio! Sì? Ma questo è Antonio Tonino Saluta Mariana Buongiorno Come va? Fermi dove sei? Si può sapere perché ti congi così? Con la pettina tu l'ho vista proprio male Troppo corti Possibile che... Girati, girati! Prova a scuotali, scuotili! Ecco, vedi? Tutto fermo, tutto corto I capelli sono fatti per ondeggiare, per intacciarsi ai rami alle vele Non devi tagliarli più, mai più Ma non sono poi tanto corti Mal te Dio e devo andare dal parrucchiere Ho preso già l'appuntamento No! A me Mariana piace così Guarda, non mi costa niente rinunciare al parrucchiere Se questo piace a Tonino... Antonio, please Scusa Bionda Devi farti bionda Bionda? No, no, no Io sto male bionda Un giorno mi ringrazierai E se rifiuto? Non puoi! Sei circondata Guarda Ti arrendi? Va bene Mi arrendo Ti fai bionda Su le mani! Anche tu, su Mi hai teso proprio un bella guata e complimenti Complimenti? Età? Non si chiedere tale, signore Pardon